Si chiama Riprendiamoci la patente della terza edizione dell'iniziativa pensata da Aci Lucca per i soci che guidano da almeno 50 anni. Un evento che ha riscosso nuovamente un grande successo e sono state tante le persone che si sono date appuntamento al Teatro Comunale Puccini di Alto Passo per prendere parte alla mattinata di formazione e premiazione organizzata dall'Automobile Club Lucca con il patrocinio del Comune di Alto Passo e della Polizia Stradale di Lucca. Presenti il sindaco di Alto Passo Sara D'Ambrosio che è anche membro del consiglio direttivo dell'ACI Lucca, Pietro Ciaramella comandante della Polizia Stradale di Lucca, Luca Gelli e Luca San Giorgio rispettivamente presidente e direttore dell'Automobile Club Lucca. In occasione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022 l'Automobile Club Lucca riprende un'iniziativa che si era interrotta a causa della pandemia che abbiamo denominato Riprendiamoci la Patente. Si tratta di un'iniziativa di educazione stradale che è rivolta ai soci con più anni, quelli che abbiamo definito diversamente giovani, cioè coloro che possono vantare numerosi anni di patente, che andiamo a celebrare in questa occasione.